al prossimamente ve lo so ma questo è perché hanno fatto così se ci chiedono i nomi a dirvi le prete di quel voglio fare il torneo tanto io l'ho pagato quindi il torneo mi tocca me lo faccio con fanculo quale torneo? con stessi torneo facciate c'è il torneo di spada credo sentivo prima si ora vedi che la c'è torneo ma lì c'è torneo di spada io lo voglio fare d'accordo